E adesso è arrivato il momento più importante Ci sono Giuseppe Procchi a premiare insieme ad Alessandro che ha partecipato all'ultima edizione di X-Factor E' arrivato come diceva adesso un momento molto importante Quello di eleggere la Bella d'Italia Sardegna 2013 Che è... Elena Meloni Elena Meloni di Santa Teresa di Caldura La terza di Caglia Sardegna 2013 La terza di Caglia E siamo arrivati alla fine, spero che vi siate divertiti Con i balli della scuola di ballo di Giuseppe Procchi I nostri ospiti musicali Claudio Sini e Giuseppe Pischetta Ovviamente un saluto e un grazie a Kika Ervatin Un saluto ai nostri giurati che sono stati presenti questa sera Un saluto e un ringraziamento a tutte le ragazze che hanno partecipato Grazie anche a Lutter Faradis che abbiamo... e che ci ha ospitato Arrivederci alla prossima